Un saluto a tutti i web ascoltatori di Liberi.tv e nello specifico di Spazio Certi Diritti. Questa sera tratteremo la filmografia LGBTQ, partendo da un film molto molto importante in quanto è il primo della lunga serie di lungometraggi e anche di cortometraggi inerenti alla tematica lesbian, gay, visex, trans e queer. Io ho voluto scegliere un film che si chiama per l'appunto Diverso dagli altri. È un film tedesco del 1919. È un film molto importante perché è il primo film che tratta esplicitamente il tema dell'omosessorità. Si tratta di un film incredibilmente sopravvissuto alla furia nazista, seppur con una versione logicamente molto ridotta. La pellicola, cosa molto importante, si apre subito con la contestualizzazione storica. Infatti il Cratello recita più o meno in questa maniera. Migliaia di omosessuali in Germania vennero imprigionati a causa del paragrafo 175. Per chi non lo conoscesse il paragrafo 175 era una misura del codice penale tedesco che entrò in vigore il 15 maggio del 1871. Parlava di fornicazione innaturale. La fornicazione innaturale era cioè quella tra persone di sesso maschile, ovvero anche tra esseri umani ed animali. Ed era punita per l'appunto con la reclusione. Tra coloro che combattevano questo paragrafo 175, almeno nel primo decennio del Novecento, vi era il dottor Magnus Hirschfeld, che era responsabile dell'istituto di scienza sessuale. Il medico sosteneva che l'omosessualità non era altro che un terzo sesso biologico e quindi inoltre gli riteneva che questa minoranza appartenesse a questo suddetto terzo sesso. Inoltre, possiamo anche dire che durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, approfittando del fatto che l'attenzione dei media erano rivolti altrove, il dottor Hirschfeld decise di chiamare un giovane regista, tale Richard Oswald, per realizzare una serie di filmati a tematica sessuale. Logicamente la tematica sessuale non si rivolgeva solo ed esclusivamente alla tematica omosessuale. Vi erano trattati vari temi, che possiamo dire attualissimi, come addirittura il tema dell'aborto o anche il tema delle malattie venere e addirittura il tema della prostituzione. Parliamo addirittura del 1919, questo lo voglio ricordare. Tali filmati, sia Hirschfeld che Oswald, decisero di mettere in atto, diciamo, una realizzazione del primo film che avrebbe parlato esplicitamente di omosessualità, nacque così, diverso dagli altri, per l'appunto. Quindi, un po' per spirito di emulazione, ma anche, diciamo, per voglia di novità, nacquero, diciamo, anche film, sempre su quella falsa riga, per l'appunto, di questi, film alle volte anche un po' volgari e provocatori. Ciò, o cosa provocò per l'appunto, scusate il gioco di parole, che i censori della Repubblica di Weimar limitarono la proiezione di tali film solo ad ambienti medici. Ci si meraviglia di come questo film si è riuscito a arrivare fino a noi. Pensate bene che ne furono epurati fin ben 40 minuti di quelli che, invece, erano i 90 minuti iniziali. Il lungometraggio, che comunque, in maniera originale, fu bruciato insieme ad altri documenti, redatti da Hirschfeld, miracolosamente, invece, si salvarono alcuni frammenti, questi circa 40 minuti, che fortunatamente arrivarono fino a noi. Ma parliamo adesso della trama di questo film, che è molto importante, perché, come vi dicevo, rappresenta il primo piccolo passaggio del cinema omosessuale nella storia che poi lo vedrà protagonista a varie e varie riprese. Il film inizia con il protagonista, Paul Corner, che è impegnato a leggere la pagina dei Necrologi di un giornale dove ci sono inesplicabili suicidi vagamente espressi. Tuttavia, sa che questo paragrafo 175 pende sul capo degli omosessuali tedeschi come una spada di damol, ed è appunto la causa di tali suicidi. Dopo questo preambolo, il film inizia con Kurt Siever, che è un ammiratore di Corner, un virtuoso violinista, e lo avvicina sperando di poter diventare un suo studente, per l'appunto. Corner accetta ed iniziano quindi, insomma, queste lezioni insieme, durante le quali tra i due sboccia una posizione che non è subito dichiarata. Cosa succede? Entrambi subiscono la disapprovazione delle rispettive famiglie, nessuno di due si dichiara apertamente a se stesso, logicamente la natura omosessuale è molto difficile, specie in quell'epoca, eppure il rapporto è vissuto. Addirittura Sievers propone una grande attenzione alle lezioni di violino, e insolitamente, diciamo, si infatua per il suo maestro, mentre i genitori di Corner li domandano perché il loro figlio si è così poco interessato alla prospettiva di sposarsi e a farsi una famiglia. Corner, per dare una risposta ai loro dubbi, li manda ad incontrare il proprio mentore, il dottor Magnus Hildfeld, proprio in persona. A questo punto, dopo che Corner ha rivelato la propria omosessualità, Ellie e Sievers cominciano quindi a pregantarsi in maniera molto aperta, in maniera molto normale, mentre passeggiano addirittura insieme a mano nella mano nel parco. Quindi la scena addirittura della passeggiata a mano nella mano nel parco è molto indicativa perché in una data molto molto particolare come quella del 1919 non era solito vedere un film del genere. Più tardi, con lo stesso giorno, sempre Corner, che è il protagonista, si trova da solo di fronte a un signore che si chiama Franz Bolleck, lo affronta, gli chiede i soldi, altrimenti rivelerà il segreto di Sievers. Quindi avviene il ricatto. Corner lo paga ma non dice a Sievers di averlo fatto, alla fine però succede che le richieste dei ricattatori si fanno sempre più eccessive, Corner si rifiuta di continuare a pagare, a segnalare la scena, qui Bolleck legge la lettera di risposta, e qui adesso non vi voglio dire il finale perché è molto importante che questo film lo vediate voi per potervene fare un'idea. Adesso voi dovete pensare che questo è un film in bianco e nero ambientato nella Germania del 1919 e stranamente anche reperibile su internet perché questo documentario, questo documentario, questo film è andato in onda sul Ray 3 il 19 novembre del 2010, quindi Ray 3 logicamente a mezzanotte ha mandato questo primo film a tematica omosessuale che comunque è degno di essere osservato non soltanto dai cultori del cinema prettamente omosessuale, quanto da qualunque estimatore di un cinema che è sempre intinere, sempre rivolto al sociale e sempre pronto a ascoltare quei bisogni che sono innati nella società come anche capita sovente per quanto riguarda il cinema a tematica gay. A questo punto io passerei a un'altra fase del cinema omosessuale che è quella del primo bacio gay. Prima di parlare però del primo bacio gay io inizierei con fare presente una piccola cosa se voi andate su Wikipedia troverete che le origini del cinema omosessuale risalgono addirittura al 1895 se prima quindi parlavamo del 1919 come il punto di demarcazione iniziale del cinema a tematica omosessuale di dichiaratamente omosessuale abbiamo però nel 1895 un piccolo cliché un piccolo flash di quello che sarà in futuro il cinema omosessuale. Quindi come inizia questo primo filmato? inizia nel 1895 da parte della Dixon Experiment Sound Film ed è un waltzer un waltzer che ballano due omosessuali due uomini che comunque è stato ripreso anche in un altro documentario che è Lo schermo velato vi consiglio di guardare sia Lo schermo velato che di cercare su internet questo waltzer perché è molto simpatico notare questi due uomini che ballano tranquillamente tranquillamente la musica. Diciamo anche che il cinema in generale è ricco di personaggi più o meno omosessuali purtroppo c'è da dire che per l'omosessualità per Hollywood l'omosessualità e anche per il cinema italiano è vista un po' sotto il profilo della macchietta quindi anche lo stesso ruolo di omosessuale veniva demandato più che altro a ruoli tragici a ruoli negativi l'omosessualità era appunto un qualcosa da cui rifuggire oppure era in termine macchiettistico direi io infatti possiamo ricordare chi è giovane forse non può ricordarlo Paolo Poli però pensiamo anche a Leo Gullotta quando interpretava nel Bagaglino la signora Leonida ecco personaggi come quello hanno sì sboganato l'omosessualità però era l'unico modo di far passare l'omosessualità come qualcosa di tranquillo per le famiglie qualcosa di innocuo ecco il termine esatto è qualcosa di innocuo però possiamo anche definire il primo bacio gay che poi è stato anche il primo film a vincere l'Oscar e stiamo parlando di Ali di Wing questo film era un film mutuo del 1927 e vede appunto la storia di due amici interpretati da Richard Arlen e Charles Buddy in crisi perché innamorati della stessa donna che partono appunto per la guerra del 15-18 dove la loro amicizia appunto si rafforzerà si rafforzerà al punto che in una scena di battaglia aerea ritenuta ancora oggi la migliore mai realizzata sullo schermo avviene questo bacio drammatico all'angolo della bocca tra i due eroi che potrebbe essere uno dei primi baci i baci gay della storia questo film come dicevamo prima rappresenta un triangolo amoroso tutti e due sono innamorati della stessa donna e sullo sfondo c'è c'è la guerra è un po' anche un film che ispirò per Harbour il protagonista diciamo Jack interpretato come dicevamo prima da Charles Buddy è indifferente ai corteggiamenti della sua vicina Maria egli brama invece dall'altra parte Silvia che invece è la bella amante di David mentre sono entrambi arruolati come piloti durante la prima guerra mondiale molto intensa come mostra poi il video che potete reperire tranquillamente su youtube su internet è la scena in cui David è stato ferito a morte io come consiglio per iniziare un diciamo un percorso cinematografico vi direi logicamente non proprio di iniziare dal 1919 è anche difficile osservare un film muto se non per i cultori e per gli estimatori del cinema omosessuale di certo è importante comunque per la storia del movimento omosessuale comprendere quali sono stati i momenti storici importanti che hanno visto nascere il movimento omosessuale negli Stati Uniti e poi logicamente in Italia sembrerà strano ma io invece di consigliarvi due film veri e propri vi consiglierò un film che poi in realtà prende anche diciamo delle parti di documentario che è Stonewall Stonewall è un film molto importante per per il panorama cinematografico LGBT perché Stonewall rappresenta appunto i moti che hanno caratterizzato la rivolta degli omosessuali per arrivare fino ad oggi almeno negli Stati Uniti alla completa accettazione e parificazione dei diritti come persone omosessuali dinanzi alla legge siamo arrivati con Barack Obama addirittura al matrimonio e stesso alle persone dello stesso sesso dicevamo prima che Stonewall è un film molto importante è stato girato nel 1995 dal regista britannico Nigel Finch che morì poi di AIDS immediatamente dopo aver completato le riprese è ambientato nelle settimane che precedenti ai moti di Stonewall e seguono le vite di alcuni gay e anche di transessuali per l'appunto new yorkesi è importante secondo me sottolineare che cosa che nel film Stonewall si hanno varie fasi del movimento gay io vi consiglio di vederlo perché una cosa che mi ha fatto molto pensare è stato un po' come il primo movimento omosessuale si poneva nei confronti della società eterosessuale se da una parte sembravano più progressisti degli omosessuali non dichiarati velati che dicevano di avere addirittura una spiaggia dove poter andare a fare il bagno e lo stesso valeva per la scena del ballo dove gli uomini potevano più o meno velatamente ballare fra di loro vediamo che in una scena dove si svolge una riunione tra i gay e le lesbiche che dovevano manifestare appunto in una manifestazione avviene una sorta di disquisizione tra il come vestirsi è un po' quello che accade oggi quando si parla di gay pride perché all'interno dello stesso film emergono due anime una che è quella di andare vestiti come si vuole liberamente un'altra è quella di andare vestiti eleganti gli uomini da uomini le donne da donne questo è stato l'esempio principale ma poi vediamo che cosa che il film Stonewell non nasce tanto dalla forza diciamo dei gay che dovrebbero essere coloro che almeno teoricamente danno inizio al movimento politico omosessuale quanto dal locale Stonewell che era un locale dove persone transessuali persone travestite anche gli omosessuali andavano lì per essere se stessi visto che nella nella vita quotidiana ciò gli era negato e chi è che riesce a dare vita alla rivolta alla battaglia che inizia in quel lontano 1969-70 sono le transessuali le travestite sono loro che la leggenda vuole questo diciamo nel film non è spiegato proprio chiaramente però si vede la scena in cui sono proprio le transessuali le drag che danno inizio alla rivolta dipendendo le proprie sorelle le proprie compagne dalle violenze delle angherie dei poliziotti che erano intervenuti a pestare nel locale le persone che erano appunto all'interno anche perché come sappiamo esistevano anche lì delle norme delle leggi che vietavano il mascheramento quindi chi aveva una parrucca chi era truccato era era tutto imprigionato per ragioni di mascheramento e quindi il semplice mostrare una propria parte di sé come quella della della persona transessuale era anche travestito travestita era sinonimo di devianza e quindi questo film Stonewell è penso una pietra miliare della della filmografia gay che ognuno di ognuno di noi etero gay lesbo lesbica scusate transessuale bisessuale o queer dovrebbe avere nella propria filmografia un altro documentario perché oggi voglio chiudere proprio con i documentari molto importanti è quello del fuori il documentario del fuori narra invece il primo movimento politico omosessuale italiano tra i personaggi che hanno dato dita al movimento del fuori oltre al grande angelo pezzana scrittore e personaggio molto noto appunto dell'ambiente dell'ambiente gay e non abbiamo anche dei radicali come Enzo Cucco ma tanti altri come Enzo Francone che purtroppo non è più tra noi in quanto è stato vittima del male che è l'AIDS l'HIV abbiamo ricordato qualche giorno fa la giornata mondiale proprio contro questa questa malattia che una volta nell'anno 80 soprattutto negli anni 80 era definita la malattia delle persone omosessuali eppure sappiamo bene che l'HIV è qualcosa che va ben oltre l'appartenenza sessuale bisogna proteggersi sempre sia donne che uomini che ragazzi perché la sessualità è qualcosa di personale ma di certo l'HIV non è qualcosa che appartiene a questo o quel orientamento sessuale ma tornando al documentario che è fuori dobbiamo ricordare che lì ci sono passaggi importanti della storia di ogni di ogni persona omosessuale che ha lottato contro l'emarginazione contro fenomeni molto brutali che purtroppo oggi sono ancora in vigore come per esempio il bullismo omofobico era difficile una volta incontrarsi invece adesso esistono ad esempio le chat prima ancora delle chat esistevano i giornali dove si potevano pubblicare degli annunci prima ancora di quelli c'era addirittura il fermoposta che molti sicuramente nemmeno conoscono ma è ancora in vigore almeno per le poche persone che le utilizzano qualche qualche anno fa andavano per la maggiore le dark room e le saune ma prima ancora di questi di questi passaggi vi erano ad esempio i cinema vi erano addirittura i bagni pubblici i cosiddetti vespasiani ecco all'interno di questo di questo bellissimo documentario che è quello del fuori oltre a una una documentazione che è stata è stata eseguita sul movimento in sé dove si raccontano ad esempio le prime le prime esperienze politiche di rivendicazione sessuale di rivendicazione vera e propria di diritti ecco abbiamo ad esempio la manifestazione di Sanremo dove sono stati appunto contestati gli psicologi che dichiaravano l'omosessualità una malattia quando sappiamo bene che l'omosessualità è stata derubricata dal della sanità dall'ordinamento mondiale della sanità molti ma molti anni fa e quindi praticamente io consiglio di vedere questo documentario prima di tutto perché è qualcosa di unico è un servizio unico nella nella storia quindi vorrei farvi farvi vedere la copertina di questo di questo documentario che ho tra le mie mani in questo momento eccolo qua questo è un documentario molto importante perché come vi dicevo prima rappresenta 40 anni di storia del del movimento omosessuale italiano il primo movimento di liberazione omosessuale italiano diciamo che all'interno di questo documentario cosa troviamo? troviamo i volti le parole dei protagonisti e trovate anche il grande cambiamento la visibilità che all'interno di battaglie molto importanti hanno rappresentato l'identità che è il movimento omosessuale italiano che cos'è questo? quindi un documento per sapere per ricordare sarebbe bello che appunto un domani anche nelle scuole magari nelle biblioteche delle scuole fosse presente non soltanto questa questa bellissima esperienza documentaristica che è un tassello per per la politica e per la cultura italiana io voglio concludere questa trasmissione con un altro documentario molto ma molto importante io ne ho visti tanti vi dico vi dico la verità tocca molto osservare la sofferenza di persone che nascono in un modo pur sentendosi in un altro e se già è difficile per le persone omosessuali vivere la propria omosessualità alla luce del sole credo che lo sia ancora di più per le persone transessuali e per persone transessuali non intendiamo soltanto l'em to f cioè da maschio verso femmina ma anche F2M che sono un po' meno note che sarebbero le donne che decidono di cambiare sesso o meglio di riconvertire il proprio sesso verso il sesso che per loro è più congeniale e biologicamente congeniale uno diciamo dei migliori documentari che io abbia mai visto è questo che si chiama Crisalidi questo logicamente lo potete richiedere sicuramente al sul www.crisalideazionetrans.it è uno dei tanti siti che è logicamente ma è uno dei siti molto importanti per quanto riguarda appunto il tema del transessualismo io volevo parlarvi di questo documentario perché ci sono rappresentati cinque ritratti intimi di giovani persone transessuali è un film di Federico Tinelli è stato premiato addirittura come miglior documentario al Novara Cine Video Film Festival e parla delle storie di persone comuni parlano della storia di Monica di Antonia di Giorgio Nicole Lorena sono persone come tutte le altre che però hanno affrontato un percorso di vita molto complesso che in certi casi continua tuttora e che non è scevro sicuramente da discriminazioni da omofobia da transfobia si parla poco della transfobia ed è importante quello che riesce a restituirci la regia di questo film di questo documentario perché è un punto di vista originale poetico unico perché alle volte ci racconta la solitudine della trasformazione che c'è nella ricerca di sé e questo documentario è molto importante perché io sono rimasto mi sono commosso soprattutto nell'osservare le storie del F2M perché non voglio togliere nulla agli uomini che diventano donne perché quello è un percorso molto molto duro però sono rimasto ancora più male dalla sofferenza che prova che tasfare che prova una persona che da donna decide di transitare verso un corpo maschile è un'esperienza che io di certo non posso vivere perché non è un'esperienza che a me appartiene però attraverso questo video ho toccato probabilmente delle corde nascoste che mi hanno fatto riflettere mi hanno fatto pensare se è difficile essere omosessuali e quindi fare cammin out camminare alla luce del sole a testa alta immaginate cosa vuol dire camminare alla luce del sole a testa alta per una persona che transita verso un altro corpo verso un altro sesso che è poi il sesso di origine io penso che le persone transessuali nascano transessuali nascano donne nascano uomini e comunque pur essendo diverso il loro corpo a corpo apparentemente è giusto che riattribuiscano il proprio il proprio corpo come come quello che riescono appunto a ricondurre la propria felicità non sono d'accordo sul considerare la transessualità una malattia infatti come sapete il fatto di essere transessuali l'operazione viene passata e le cure vengono passate dal servizio sanitario nazionale ma perché viene definita una anomalia qualcosa da correggere quindi la transessualità viene vista come come qualcosa appunto da cancellare da da riconvertire a qualcosa di normale come se questa parola normale esistesse realmente ecco vi consiglio di vedere questi altri documentari io vi consiglio almeno questo per per l'inizio poi nelle prossime puntate questa è la prima di altre puntate tratteremo di certo altri film altri documentari che io ho visto nei miei circa 600 film che nella mia storia sono riuscito a reperire e che comunque mi hanno formato e mi hanno dato la possibilità di vedere il mondo con colori diversi perché nella vita non esiste un solo colore ma esistono tanti colori con questo chiudiamo questa prima puntata di spazio certi diritti dedicata al cinema a tematica gay lesbo trans bisex queer e vi do appuntamento sempre sul canale di liberi.tv per altre nuove puntate di spazio certi diritti ma per altre tematiche importanti che tratta liberi.tv una tv libera dove ci sono liberi spazi di parole dove chiunque gay lesbo trans bisex queer o chiunque abbia qualcosa da dire può venirla a dire tranquillamente in trasmissione ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e a questo punto do la linea alla regia a Donato Volticella grazie a tutti buona serata